La tecnologia semplifica le installazioni. Allora, sì bello, no brutto, ne parliamo subito dopo la sigla! Elettricista felice A cura di Alessandro Bari La tecnologia semplifica le installazioni decisamente sì. Bene o male, in particolare volevo parlare degli impianti di allarme e intrusione. Lo facciamo con Davide Marcomini che è qui accanto a me. Sì, giusto. Ah ah, è qua accanto a me. Pensavo di fare il classico errore, è qua accanto a me. Stai indicando l'altra parte. Vabbè. Ciao Davide, esperto di allarme e intrusione. Quindi te ne sai da far cuccioli, come direbbe Marco Montemagno. Ne sai un botto, sei tra l'altro esperto anche degli elettricisti illuminati, ti occupi anche di formazione, dei colleghi, o nonché lo fai anche di professione. Buongiorno Davide, grazie per essere qui. Ciao Alessandro, buongiorno a chi ci ascolta, chi ascolterà questa puntata, chi ci vedrà tramite YouTube. Beh, che cosa ti devo dire? La semplicità è, secondo me, nemica del tecnico. Cioè, io non vedo perché un tecnico debba ipersemplificare il proprio lavoro. A quel punto non sei più un tecnico. Mi spiego meglio. Io sono ancora uno di quelli che toglie il coprifilo dalle cornici per riuscire ad arrivare tramite un foro con il trapano a montare il contatto magnetico nello scuro senza la predisposizione. Questa è una cosa che non fa più nessuno, perché normalmente il tecnico medio ti monta il contatto wireless fuori. E sappiamo tutti benissimo che è una cagata spaziale. Scusate il francesismo. E mettere fuori un contatto wireless è una cagata, ok? Se io ti voglio però proteggere con quelli che uso io, con lo stesso contatto, ti proteggo sia la finestra dall'apertura e dall'urto, più tramite contatto ausiliario vado a proteggerti lo scuro, lo faccio manualmente con un contatto cablato, quindi devo portarmi dentro il filo. Questa, semplificando, uno potrebbe dire ah ma io metto fuori il contatto wireless e ho finito. Ma allora che tipo di mestiere fai? Cioè il nostro lavoro non è quello di vendere le scatolette, il nostro lavoro è quello di fare le installazioni in modo professionale. Sì, però su questo io ti do ragione, cioè su questo non c'è dubbio, nel senso è nettamente migliore l'installazione del contatto cablato fuori rispetto al wireless. Ma questo era solo un esempio Alessandro, ma se tu nel calderone mi metti che è wireless, quindi già non hai dovuto tirare il cavo, non lo fesci più... Aspetta, la parte negativa del fatto che sia wireless non è che io non abbia fatto fatica, quella è la parte bella al limite. La parte negativa del fatto che sia wireless è che magari è più facile bypassarlo, cioè bloccarlo... No, 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 adesso parliamo delle semplificazioni, parliamo di come la tecnologia ci semplifica le installazioni, quindi... Perché io sono contento e tu no. No, no, assolutamente, assolutamente, non deve semplificarci le installazioni perché... Quando io sento no, mi esce sangue dalle orecchie. Ma ci snatura, ci sta snaturando, snatura la nostra, scusa il gioco di parole, natura di tecnico. Se tu già al posto del cavo usi il wireless o il wifi che sia a seconda della tecnologia di cui stiamo parlando, ti toglie un qualche cosa. Tu non sei d'accordo, però... Allora, non usiamo più il cavo, non usiamo più i tasselli perché li fissiamo col biadesivo... No, dai, vabbè, ma chi è che... Cioè, allora, li fissa col biadesivo e li fissano solo una determinata marca, mi pare, o se no, l'installatore che... Non fa manutenzione. No, no, ci sono aziende che ti mettono la strisciolina di biadesivo nel sacchetto del contatto wireless. Quindi non voglio pensare che non lo usi nessuno e non ci credo, anche perché sempre più spesso trovi clienti che ti dicono ah, ma mi fori il serramento? No, 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 no. Allora, a me è successo. Allora, intanto, te trovi il biadesivo, puoi anche prendere il biadesivo, attaccare, non usarlo, oppure prendi il biadesivo, glielo attacchi dietro, te lo posizioni, dopodiché gli fai due forellini. Certo. Solo per semplificarti la vita nell'installazione. Questo puoi farlo. Certo. Secondo, mi è successo che questa signora aveva messo gli infissi nuovi, comprati gli infissi nuovi in PVC, fa no, no, te non me li buchi. Sura, ma... Io anche se uso il 3M, il Saratoga, il biadesivo Saratoga, ma in colla di brutto, non ho mai avuto problemi, signora, però io col biadesivo non li ho mai messi. Ma ti pare che posso metterti un biadesivo sulla finestra? Cioè, sui contattini? No, no, ma perché? Sì, no, non lo voglio bucare. Sura, facciamo così, io le metto col biadesivo. Poi mi chiama e lei mi dice me li faccia, me li faccia qui fuori. Però è un lavoro del meng, cioè è un lavoro che, io non le dico, è un lavoro fatto bene. Io le dico, sto facendo un lavoro di merda perché lei mi ha chiesto un lavoro di merda. Costa uguale al lavoro fatto bene. Va bene? Fa... Sì, va bene. Ok. Io l'ho messo il biadesivo e una settimana dopo sono andato a fare i forellini. Cioè, per dire, gli ho detto, Sura, ma la prima volta che c'è il vento con la finestra aperta, sbatte la finestra, cioè, oppure arriva la signora delle pulizie e lo colpisce, pulendo la finestra, che ne so. Però... Magari, ma... Vai dimmi. Prego, no, 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 finisci. No, no, cioè, lì era da impuntarsi, tirare una testata alla signora prima e dire, attenzione, Sura, non si fa col biadesivo. Io ho voluto, l'unica volta nella mia vita in cui ho voluto dire, va bene signora, guardi che per un lavoro di merda e poi sono dimostrato che lo era, ecco. Io sono convinto che ci sarà qualcuno che dice, ma ci sono dei biadesivi che te... Sì, per carità. Primo, dipende anche dal supporto, perché non dipende solo dal biadesivo che usi, ma dipende dal supporto, da quanto è pulito, da quanto tiene, da che materiale. Poi nel tempo il biadesivo si secca, la colla cristallizza, quindi non sarà mai duraturo, durevole nel tempo quanto un fissaggio. Tralasciamo la parte relativa al fatto che secondo il MISE la posa mobile non è certificabile come impianto di allarme e intrusione, ma questo attualmente lo sorvogliamo e arriviamo alla parte che forse interessa più a te e di quella più interessante un po' per tutti, ovvero la lettura tramite il QR code. Non si capisce perché un tecnico abbia bisogno di leggere il QR code di un contatto magnetico. Secondo me è solo un modo per arrivare al cliente finale e dirgli guarda, tu non devi capire un cazzo e scusate mi è sfuggito, devi solo leggere un QR code perché non ci sono altre spiegazioni a questa cosa. Perché non devi leggere abbiamo sempre trascritto un serial number o più banalmente abbiamo sempre premuto il tastino del tamper e il dispositivo veniva letto dalla centrale. Perché devo leggere un QR code tramite un'app? Spiegamelo tu Alessandro? Allora perché è fottutamente più facile, è fottutamente più veloce, cioè non c'è dubbio, porca paletta. Sì, ma perché? Sì, ma perché tu? Allora, il tecnico. io ho i collaboratori, no? Ho io dei collaboratori per la mia azienda e guardo un allarme, guardo un'abitazione e dico i punti critici sono questi, dobbiamo proteggerla in questo modo. La programmazione la faccio in questo modo perché la programmazione per quanto semplificata ho notato che io chiaramente ne incontro tantissimi che si montano da solo l'allarme e fanno delle puttanate enormi perché è chiaro che se è la prima volta che lo fanno perché sono degli utenti non sono degli installatori faranno degli errori e gli errori li fanno in casa propria. Ok? Sicuramente risparmiano dei soldi perché chiunque sa che un tecnico va pagato quindi non paghi il tecnico risparmi dei soldi. Qual è il concetto? che si allora possono installarsi l'allarme da solo? Normativamente no? Cioè nel senso non dovrebbero essere abilitati non sono abilitati no? per farlo. lo fanno sì come io ho un cliente che si è cambiato da solo il differenziale perché scattava quello della cucina e siccome scattava ed era da 16 ampere si è messo da 25 gli ha preso fuoco la cucina perché lui è una cucina grande due forni eccetera la linea ha letteralmente preso fuoco si sono colati i fili sono andato a togliare di fargli l'impianto della cucina possono farlo? no lo fanno sì perché la gente tendenzialmente cerca di risparmiare è sbagliato? sì però non mi sento di dire e allora facciamo sì che gli oggetti siano complicati da installare no io trovo che questo sia un errore cioè se io con la mia esperienza riesco a programmarmi cioè mi programmo quella centrale mi programmo in pochi istanti ma nella maniera corretta so che cosa devo installare come installarlo il mio tecnico ci mette che ne so due ore anziché quattro cioè il cliente risparmia io risparmio faccio più installazioni cioè non lo so è tutto più veloce cioè spalmalo nell'anno cazzo fare 200 installazioni o fare 100 installazioni cosa cambia? beh dal punto di vista economico cambia perché non è che non viene pagato a ore viene pagato ad allarme no? quindi fatturi di più guadagni di più tu come tecnico adesso sto parlando come tecnico non solo ma se installi più impianti l'anno dopo hai più manutenzioni da fare giusto? è una ruota non è non è detto non è detto cioè perché? perché alcuni tendenzialmente si fanno no perché no perché questa cosa perché questa cosa ti porta inesorabilmente verso il fai da te totale perché non è totale capperi è quello che quello che dico io te puoi semplificare quanto vuoi ma ci sarà un gruppo di persone che se lo fanno da soli facendo bene o male e ci sarà un enorme gruppo di persone che lo faranno comunque fare al tecnico perché vogliono stare sicuri io che installo questa macchia qua ho dei clienti che mi dicono vieni a farmi la manutenzione annuale che altri non la fanno neanche decennale cioè la manutenzione cioè capisci che ci sono clienti e clienti e i nostri clienti sono quelli che vogliono un lavoro fatto bene ma non vederla ma non vedere le mie parole come domani finisce tutto ma quel cliente non sarà eterno ai noi e quindi arriveranno i figli i nipoti i pronipoti di quel cliente che inevitabilmente se tu ci hai messo due ore a fare un impianto lui dirà beh sai cosa c'è lo trovo su Amazon lo leggo col QR code non ci metto due ore ce ne metterò otto ma ho risparmiato il tempo di Alessandro Bari già solo per dirti cosa cosa mettere su deve avere delle competenze qui qui mi apri qui mi apri un altro capitolo ed è il motivo per cui io abborro queste queste nuove tecnologie che di nuovo non c'è niente alla fine aspetta apro chiudo la parentesi tu fai tvcc si hai clienti che ti fanno fare ti fanno piazzare le telecamere che ti fanno mettere le telecamere in casa certo ok ci sono online delle telecamere che tu inquadri e monti a schiocco di dita no si ci sono ah per esserci ci sono si ci sono ci sono da tempo giusto si e te e i tuoi clienti cosa hanno detto adesso mi metto quella la telecamera me la faccio da solo certo che ci sarà qualche cliente cioè ci saranno tantissime persone che lo hanno fatto infatti troviamo tutti i video di questi qua che vanno in camera da letto li troviamo su telegram perché non cambiano la password perché si prendono dei prodotti di merda e diciamolo no e che non hanno nessuna tutela e poi troviamo i loro i loro video quelli più hot addirittura a pagamento a favore di qualcun altro neanche di loro stessi certo ovvio e quelli invece meno hot liberi su telegram li troviamo sì o no questi oggetti esistono sì li usa l'utente finale sì li usa male c'è chi li usa di male c'è chi li usa un po' meglio puoi paragonarli a un'installazione di tvcc tua cazzo no ti hanno tolto il mercato no perché è lo zingaro che si compra scusate perché la persona che non desidera investire del denaro nella propria sicurezza ma dice ce la faccio da solo non è il nostro cliente non è né mio né tuo sicuramente perché se io per uscire solo per risponderti dal telefono mi devi passare tra le chiappe la carta di credito è chiaro che non sei un mio cliente se invece te adori installarti la tua telecamerina da solo però io a differenza non sono contro il fatto che esistano ma nemmeno io non sono neanche contro il fatto che quelle persone lo facciano sono cavoli loro cioè no 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 fermati bloccati non sono contro io non sono contrario al fatto che esistano dico che non è il nostro mercato non capisco non mi capacito del fatto del motivo per cui un tecnico lo debba fare Alessandro non sto dicendo che è sbagliato che esistano vanno bene per un mercato di fai da te il tecnico deve fare il tecnico a vai scusate continui a interromperti non è giusto prosegui no 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 ha maggior ragione perché quelle apparecchiature ti consentono di installare una determinata cerchia ristretta di tecnologie di rilevazione che ormai sono obsolete chi monta quelle tecnologie lì dice a noi che siamo perché loro utilizzano le tecnologie innovative e non hanno capito una sega di tecnologie perché le tecnologie se parliamo di tecnologie della rilevazione lì dentro ci sono solo tecnologie obsolete che non non dovrebbero neanche entrare nel vocabolario dell'allarmista apri un contatto magnetico ok che cosa c'è dentro che rileva l'apertura la chiusura se parliamo di quelli che trovi nel popolo sicuramente sono tutti uguali anche gli altri che non trovi nel popolo come rilevano l'apertura dai non è una domanda difficile c'è un read c'è un read c'è la baseline per direi c'è un read e nell'altra ce ne sono due stiamo parlando di via radio Alessandro sì tecnologia anni 30 il read è nato negli anni 30 brevettato negli anni 40 invece tu dici nel tuo contatto radio che monti te non c'è il read no c'è un effetto di all se in 50 anni di storia della sicurezza noi ci siamo evoluti pensi che i ladri non l'abbiano fatto o che siano rimasti fermi al palo di 50 anni fa noi stiamo installando tecnologie paleolitiche e parliamo di innovazione perché c'è il QR code questo è quello che mi fa chiudere la vena che tutti quelli che sui social scrivono voi siete rimasti indietro non hanno capito una merita fava una volta che io ti ho rilevato la posizione del magnete metto un magnete d'attacco anche dall'esterno perché non ce l'ho qui ma se ci metto un magnete da 50 kg ciaone e ti ho il uso il read poi apro la finestra mentre con l'effetto di all no perché è più direzionale con un magnasphere con un magnasphere sarebbe ancora meglio quindi tu dovresti mettere il tuo oggetto e collegarmi un magnasphere all'ingresso supplementare semmai se vogliamo parlare di un minimo di sicurezza ora non credo che si riesca aspetta se la telecamera riesce a mettermi a fuoco mettila un po' più basso come vedi non ci sono un polle si non c'è un read ok e per correttezza ti dico che non c'è neanche dietro ok il componente non so se riesco con che cosa riesco ad inquadrartelo perché è piccolissimo il componente che rileva l'apertura è questo ok quindi se vogliamo parlare di innovazione tecnologica per la rilevazione qui c'è dell'innovazione non puoi parlarmi di un componente inventato negli anni 30 che è un'ampolla di vetro con del gas inerte dentro che se si incrina l'ampolla non a caso vendono i ricambi è vero sì o no che vendono le ampolline di ricambio Ajax non ne sono a conoscenza purtroppo non ti so dire se vendono le ampolline di ricambio lo dico io vendono le ampolline di ricambio e questo è indice del fatto che siano fragili perché il read è conosciuto principalmente per la fragilità perché se si incrina il vetro esce il gas inerte e il micro contatto non è più affidabile ci ho fatto un corso intero per gli elettricisti illuminati su questa cosa e ci sta ci sta ma secondo me è scollegato dall'argomento principe non è scollegato perché è una conseguenza allora ti spiego perché dal mio punto di vista scusa questa volta ti ho interrotto io è una conseguenza per una ragione molto semplice ti faccio guarda ti faccio il gesto non te lo dico neanche i costi allora abbiamo degli oggetti economici rispetto ad altri lo possiamo negare? no tutto quello che deve essere economico deve essere sviluppato innanzitutto su tecnologie che non abbiano necessità di ricerca e sviluppo quindi mi prendo le tecnologie che hanno studiato gli altri e le adotto costi di ricerca e sviluppo zero quindi prendo che cosa il read si è sempre usato il problema è usarlo adesso l'infrarosso passivo non è un problema si è sempre usato il problema è usarlo adesso quindi devo prendere per rimanere nell'economicità del mio prodotto per contenere il costo del mio prodotto devo utilizzare tecnologie economiche e devo utilizzare attenzione tecnologie economiche che mi permettano di funzionare a batteria perché il grosso problema del wireless di tutti i wireless al mondo è il consumo di batterie chiaramente cioè te di contro è ovvio che mi stai dicendo un'altra marca i via radio non li fa con l'infrarosso e il microonde che dipende dall'infrarosso ma allora se no non c'è differenza cioè lo stai dicendo perché c'è la differenza da qualche parte cioè da qualche parte c'è la differenza ma da qualche parte c'è anche il tecnico che deve fare il tecnico e che sa tutte queste cose e che per proporti un sistema sicuro non te lo propone tutto radio ok va bene e questo va bene perché cioè se c'è gente che dice hai l'impianto filare te lo spengo e te ne faccio uno wireless perché siamo appunti sì è vero bisognerebbe che dico una parola in più che va oltre il nostro ragionamento ma bisognerebbe insegnare all'utente a distinguerle tutte queste cose di cui io e te parliamo bevendo il caffè l'utente non ne capisce un'acca e si fa intortare ok questo da sempre il buon venditore vende questo non c'è dubbio e al di là di quello che ti sta vendendo hai otto minuti ok va bene allora tendenzialmente te dovresti montare tutte le volte che ne hai la possibilità un impianto cablato da preferire all'impianto via radio e questo non c'è dubbio al di là della marca almeno misto sono tutte cose che sono lontane dal QR code mille miglia ok ma e torniamo e questo è il legame porca trota è il legame cioè quello che dico io è poni la tua marca ok facciamo questo esempio la tua marca Pinco Pallo che fa dei magneti fantastici via radio con l'effetto di oil che fa gli R che ti prendono anche in base a come li imposti ti prende se la formica usa il piede destro o il piede sinistro no cioè prendi la tua marca che fa i sensori più sicuri dell'universo a un certo punto ti mette dentro i QR code per per inserire i tuoi sensori nella tua centrale cosa fai ti strappi i capelli no non ne ho più io guardo il mestiere che faccio io io faccio il tecnico di sicurezza e se loro mi mettono dentro il QR code chiamo Patrizio o chiamo Giuseppe e gli dico guarda mi dispiace non prendo più la tua roba è è semplice parca paletta perché non non è così tu fallo se lo fai con il QR code lo fai perché vuoi andare all'erua Merlin ad Amazon a Brickman ma non lo fai per il tecnico di sicurezza scusami ci sono dei prodotti che all'erua non lo possono vendere perché se non sei certificato non funzionano eppure hanno il QR code cioè l'installatore comunque lo acquisisce semplicemente in maniera semplice tipo vabbè sto parlando sempre della solita marca è una marca che non ha niente a che fare con l'installatore professionale di sicurezza è finito il nostro tempo ma non siamo arrivati al nocciolo della situazione il nocciolo della situazione cioè è veramente complesso arrivarci dimmi che è la stessa cosa programmare una centrale Tecno Alarm o programmare una centrale hai finito il tempo programmare una centrale Ajax un abbraccio grazie Davide un abbraccio a tutti quelli che sono seguito fino a questo momento teniamoci in contatto ciao vai sul sito elettricistafelice.it elettricistafelice il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su youtube o ascoltare su spotify mentre guidi il tuo furgone